Buonasera e bentornati a Primo Cittadino che come annunciato questa sera vede protagonista il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Bentornato nei nostri studi sindaco. Grazie dottoressa e grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Ricordo come sempre i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un breve messaggio su whatsapp al 338 49 68 250. Questi numeri li vedete comunque in sovrimpressione. Sindaco ripartiamo da dove eravamo rimasti quindi alla sua rielezione. Avvenuta nel mese di giugno era candidato unico il 72 per cento dei cittadini si era recato alle urne e bene il 91,5 per cento aveva messo una croce nella lista. Un risultato nel segno della continuità? Nel segno della continuità e anche di un rafforzamento di legame con il territorio perché quelli che sono stati numeri parlano chiari. Il 72 per cento non si era mai recato alle urne e a Monbaroccio. Girava sempre fra 65 e 66 e 67 per cento. Quindi è andata a votare ancora più gente rispetto a quando magari c'erano più liste. E poi di quei 72 per cento il 91,5 per cento ha messo la croce. Quindi ha voluto aderire con una croce e con il voto a quello che era un percorso che avevamo proposto ai cittadini. Un percorso di continuità? Sì, con tanti progetti in piedi che ci hanno visto coinvolti. A cominciare dai fondi PNRR, fondi regionali, fondi statali, ma anche tante piccole risorse che siamo riusciti a portare a casa portando, come si dice a volte, a raschiare il barile laddove potevamo. E questo è un segno di soddisfazione ma soprattutto è un segno di coesione di un territorio che a fronte delle criticità, mi vien da dire, precedenti, perché tra liste per un comune di 2000 abitanti forse erano esagerate, oggi ci troviamo tutti insieme a votare per un unico percorso che ci vede coinvolti tutti quanti. Quindi ringrazio veramente tutta la mia cittadinanza che è stata vicina, ringrazio tutto il gruppo elettorale che è composto nella mia lista di persone di centro-destra e di centro-sinistra senza alcuna distinzione perché tutti insieme siamo legati da un programma con un obiettivo chiaro quello di fare il bene della collettività e quindi con quelle persone preparate che ho voluto all'interno del mio percorso elettorale proprio per le loro specificità per le loro qualità che potevano essere e sono state messe a disposizione di questo meraviglioso comune che ho l'onore di rappresentare. Quindi un grazie ai miei concittadini e alle mie concittadine speriamo di non deludere e di lavorare ogni giorno sempre al meglio per portare a casa sempre più risultati. Ha sottolineato giustamente questo dato importante inerente all'affluenza anche perché lo abbiamo visto pure dai dati definitivi delle regionali Liguria i cittadini insomma tendono un po' ad allontanarsi dalla politica cosa che non è successa a Monbaroccio. Esatto dottoressa, anche perché quando ci fu la preoccupazione perché sappiamo che quando si va a votare per una sola lista bisogna raggiungere il quorum del 50% più uno di quel 50% più uno il 40% deve presentare scuede valide quindi c'era un doppio quorum. In quella circostanza mi disse non ti preoccupare che ci sono le europee che tanto tirano le europee invece le europee, anzi aggiungo in quella circostanza Monti-Mombaroccesi non ritirarono nemmeno la scheda delle europee ma sono venuti per votare per le amministrative, per le comunali e le europee abbiamo visto, un cittadino su tre va le europee un cittadino su due si è presentato alle regionali oggi la Liguria ha avuto un'affluenza credo intorno al 52-53% sono dati abbastanza recenti, almeno quelli che mi sono arrivati credo che siano anche rappresentativi e invece sì, i numeri hanno pagato, i numeri hanno premiato e come dico ci hanno dato una maggiore responsabilità di risposta al nostro territorio che a fronte di quel voto, a fronte di quei numeri oggi chiede delle risposte, speriamo di poterle dare. Lei di recente ha aderito all'associazione partitica Base Popolare di che cosa si tratta e perché ha fatto questa scelta? Allora Base Popolare al momento è un'associazione che sta lavorando sul territorio e sui territori della regione Marche io ringrazio Roberta Crescentini che vediamo è la coordinatrice era la coordinatrice provinciale fino a poco tempo fa ringrazio naturalmente il dottor Rossetti e il dottor Spacca che hanno chiesto e mi hanno chiesto di far parte di un gruppo che come dicevo prima ci vede molto rappresentati è un'associazione che sta lavorando su tutto il territorio ma che ritrovo nella mia lista stessa esce ed esula da quelle che sono le filosofie di partito lavora su un percorso moderato di aree di centro che lavora sul dialogo, sul confronto ma che soprattutto non ha fatto la scelta di chi può portare più voti ma la scelta di chi può portare maggiore qualità e quindi figure tecniche, figure specializzate figure che nel merito sanno di che cosa parlano che approfondiscono la materia e che si mettono a disposizione di un territorio oggi sono coordinatore pro tempore in attesa del congresso che sarà il 9 di novembre e che ci vedrà coinvolti chissà che il congresso mi possa dare questa continuità di cui oggi posso soffrire per poter lavorare in un'ottica comunale, intercomunale, interprovinciale magari anche regionale ci saranno le condizioni per quello che potrà essere un processo di valorizzazione di idee di progetti, di associazioni di valorizzazione di tutto quello che la nostra regione Marche può dare ai nostri concittadini quindi siamo a disposizione di un territorio lo facciamo nel piccolo, lo facciamo nel grande e questo poi saranno chi per me deciderà naturalmente a disposizione sempre della collettività Ecco appunto, quindi lavorate anche in un'ottica di programmazione a lungo termine in vista delle elezioni regionali del prossimo anno l'associazione si sta impegnando, sta valutando anche questa possibilità Il coordinamento dopo il congresso potrà fare queste valutazioni anche a medio-lungo periodo, certo Sindaco, ricordo che nella sua intervista post-elezioni tra i progetti che aveva inserito per guardare appunto al futuro c'era anche quello degli infermieri di famiglia e pochi giorni fa l'Asta ha annunciato ufficialmente l'arrivo di questi infermieri di famiglia qual è il suo compito e quali potranno essere i benefici? È già operativo, dal primo di ottobre l'abbiamo fatto lavorare il giorno stesso in cui l'hanno comunicato quindi io ringrazio la dottoressa che si è prodigata per essere poi a Monbaroccio e fare quello che è un percorso necessitante per i territori Monbaroccio, grazie naturalmente lo devo dire sia all'Asta, al dottor Carelli naturalmente all'assessore Salta Martino la dottoressa Rasori naturalmente alla dottoressa Esposto che si è prodigata fin dal principio nel merito di questa proposta ma è stato un percorso di squadra un percorso che ha visto coinvolti i medici di medicina generale il nostro farmacista, dottor Mazza che essendo l'unica farmacia comunale unica nel territorio conosce le esigenze di tutti Un punto di riferimento, certo Esatto, bravissima e naturalmente un ringraziamento enorme lo devo dare all'assessore Franca Rossi che si è prodigata da un anno a questa parte forse più affinché il tutto andasse nella direzione di realizzare questo progetto un progetto che a fronte dell'anzianità a fronte delle criticità legate a quelle che sono le malattie che sono poi dovute alla longevità al ciclo di vita, all'età permette di andare a dare quell'assistenza domiciliare che anche nel piano di nazionale di ripresa e resilienza è previsto cioè il PNRR prevede questa figura nella sua mission è che Monbaroccio per prima del distretto di Pesaro mette in campo ma mette in campo in via sperimentale affinché ci auguriamo sia propedeutica anche a tutto il resto del territorio io ritengo che una figura del genere possa dare non solo l'assistenza ai medici di medicina generale che sono stracarichi e che sono sempre di meno ma possa dare un'assistenza diretta a tutte quelle criticità che molte volte arrivano in ospedale in pronto soccorso in particolar modo con codici bianchi e codici verdi cioè noi riusciamo secondo me e se poi potremo aggiungere a questo percorso la telemedicina mi auguro nei prossimi mesi a dare un respiro importante ai pronti soccorso questa è una figura che può essere propedeutica da questo punto di vista affinché nei pronti soccorso possano arrivare le persone e possono essere curate coloro che hanno maggiore criticità perché questi afflussi, questi continui 40, 50 addirittura in qualche area della regione Marche si arriva quasi al 60% di codici bianchi e codici verdi all'interno del pronto soccorso appesantiscono, mi dispiace usare questo termine però gravano sul personale sulla gestione degli stessi e su tutto quello che è il comparto medico che deve essere messo a disposizione per le criticità maggiori e credo che se lavoriamo bene lavoriamo in sinergia lavoriamo con il territorio naturalmente in relazione con i distretti non solo quello di Pesaro ma naturalmente quello di Fano e quello di Urbino si possa lavorare in questa direzione rendere meno pesante il processo del pronto soccorso farlo con delle figure professionali formate perché la formazione diventa fondamentale questo lo voglio sottolineare fondamentale la formazione di questi infermieri cui stessi infermieri saranno poi fondamentali e protagonisti in quello che sarà l'ospedale di comunità che riguarda altre aree della regione e quattro in particolar modo della provincia di Pesaro Urbino fra cui il mio meraviglioso comune e quindi l'infermiere diventa una figura fondamentale sotto il percorso provinciale e regionale sia per la percorso domiciliare che andrà a intraprendere sia per quello infermieristico all'interno di un ospedale di comunità che è a conduzione infermieristica fra poco le chiederò anche dell'ospedale di comunità vorrei fare una precisazione si tratta di un progetto sperimentale corretto? allora per come ci abbiamo lavorato direi che ormai è più che strutturale è formato a 360 gradi però volevamo vedere in termini sperimentali quali erano le richieste che arrivavano quanti flussi arrivavano a domicilio cioè quante volte l'infermiere di comunità o l'infermiere di famiglia seconda ho questa diatriba con il mio assessore perché lei lo chiama di famiglia io lo chiamo di comunità ma è la stessa figura quante domande arrivano quante richieste e sono da dieci giorni a questa parte da quindici giorni a questa parte in cui è partito sempre maggiori sempre più costanti sempre più necessitanti anche perché ci troviamo di fronte a una situazione anche difficile la difficoltà della cura che magari non trova spazio e qualcuno rinuncia anche a curarsi il trovare una figura che ti arriva a domicilio diventa una prestazione sia sanitaria ma anche fortemente sociale ed ecco qua che secondo me come ci siamo inseriti come amministrazione comunale integrando a questa figura parlando naturalmente con i protagonisti del distretto anche l'assistente sociale cioè quanto in quella figura domiciliare c'è del sanitario e quanto in quella figura domiciliare assistita c'è del sociale e quindi il tutto deve essere messo in via sperimentale per capire appunto perché è la prima volta nel distretto per capire come gestire questa relazione fra socio e sanitario che poi è indicata chiaramente nel piano socio-sanitario espresso dalla regione Marche nel 2023 dopo tanti anni che mancava quindi speriamo che venga esteso anche ad altri territori a questo punto assolutamente prima ha parlato dell'ospedale di comunità se non ricordo male nel mese di marzo 2024 l'assessore regionale Salta Martini aveva dichiarato che a breve sarebbero partiti i lavori per la realizzazione dell'ospedale di comunità ci sono degli aggiornamenti? sì anche qui mi sento di ringraziare il dottor Biraschi il dottor Carelli e l'ingegnere Rarseni per il grande lavoro espresso questa mattina hanno scaricato i mezzi pesanti mi sono permesso di mandare questa foto che non è rappresentativa ma incisiva proprio per i mezzi che stanno scaricando perché domani mattina cominceranno lo ufficializziamo abbiamo una foto che lo testimoni esatto anche perché c'è stato in questi sei mesi tutto quello che è stato l'affidamento dei lavori tutto quello che è stato l'affidamento dei subappalti quindi il processo è importante sono 5 milioni e mezzo di intervento mi auguro che siano ampliati perché i posti letto ci servono oggi più che mai e che possa essere propedeutico a un primo 15-20 posti 15 in questo caso ma da progetto esecutivo che ho visto i posti previsti per quella struttura saranno fra i 45 e i 60 quindi quindi è modulare esatto una struttura modulare tutta su un piano totale efficientemente energetico quindi a impatto zero in termini di inquinamento ma che con i moduli prevederà dopo i primi 15 anche i prossimi 15-15 e forse altri 15 successivi ma facciamo in tempo sindaco perché il 2026 arriva velocemente assolutamente sì i tempi del PNRR sono chiari marzo 2026 la fine consegna lavori e se partono domani mattina seguiremo attentamente l'evolversi ma sono convinto che i tecnici hanno programmato tutto anche perché dopo la parte impiantistica essendo una struttura modulare credo che si possa sviluppare in maniera molto celere non avendo poi strutture sottostante avendo fatto tutti i sondaggi in quello che è il terreno dedicato non dovremo trovare sorprese di recente è stato eletto vicepresidente della conferenza dei sindaci dell'Astuno quale contributo possono dare i primi cittadini in questo ambito dottoressa Zonghetti questa è una domanda che mi piace molto perché ho battuto tanto con i sindaci per coinvolgerli in quello che il percorso le responsabilità che loro debbano avere all'interno della sanità la legge 13 prima e la legge 19 poi quella licenziata dalla giunta regionale due anni fa dà delle indicazioni molto chiare su quelle che sono le responsabilità dei sindaci l'articolo 9 l'articolo 10 quindi sono 15 articoli sui 50 circa quindi quasi un terzo degli articoli riguarda i sindaci e gli enti locali fra le tante cose che abbiamo in termini di responsabilità c'è quella della valutazione delle aziende sanitarie di come si comportano di quelli che sono i loro bilanci la valutazione dei direttori generali di come si sono comportati se hanno raggiunto gli obiettivi e quando forse magari qualcuno li ha dimenticate ma per chi li ha sudate quelle fatiche quando parlavo di aziende sanitarie quando parlavo di Marche Nord a suo tempo per quello che era il percorso che mi vedeva anche in antitesi con quello che era l'andamento dell'azienda non era perché ce le avevo con le aziende anzi quelle che lavorano sono ben accette il problema è che quando non adempiono a quelli che sono gli obiettivi vedi la mobilità passiva vedi la lista d'attesa ma soprattutto quando il territorio non lavora con le aziende in particolar modo quando i dipartimenti interaziendali che dovevano fungere da collettamento fra l'azienda fra l'ospedale e il territorio venivano meno io credo che lì i sindaci sarebbero dovuti intervenire non perché lo dico io ma perché la legge allora la 13 poi la 19 successiva lo diceva chiaramente noi avevamo il compito di esprimere parere su quegli andamenti purtroppo questo è sempre venuto meno io continuerò a spronare i miei colleghi ma sono bravissimi perché ho dei colleghi a prescindere dalla colorazione con cui ci ritroviamo ci confrontiamo e ci mettono la passione ogni giorno per le fatiche che fanno nei loro comuni però su questo su questo chiedo maggiore incesività da parte loro perché spendersi da solo su qualcosa di così serio che ci riguarda tutti dalla mattina alla sera direttamente o indirettamente che siamo noi che sognano i nostri familiari o gli amici è un dovere che non possiamo non assecondare anzi Sindaco mi dicono che c'è una persona che vorrebbe parlare con lei ma dobbiamo andare un attimo in pubblicità e quindi torniamo tra poco in diretta siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci prima di sentire chi c'è al telefono vorrei farle una domanda perché tra i suoi incarichi c'è anche quello di Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e proprio nei giorni scorsi c'è stata una riunione ecco vediamo una foto alle mie spalle di che cosa avete parlato qual è stato il tema al centro di questa riunione intanto mi permetto di ringraziare il Presidente Senatore Ucchiali per la proposta al Consiglio che è stata poi all'unanimità dedicata alla mia nomina Presidente del Consiglio dell'Unione in cui credo un'unione che può lavorare in maniera intensa se capisce oggi più che mai di integrare quanto più servizi possibili laddove una provincia è in forte criticità a fronte della riforma Renzi è rimasta in sospeso a fronte di tagli e questo lo sottolineo tagli importanti che arriveranno agli enti locali nei prossimi tre anni si parla di quasi un miliardo di euro 300 e 300 e 200 milioni se non sbaglio questa dovrebbe essere la linea le unioni potrebbero essere una bella boccata d'ossigeno se siamo bravi però a costruirle e a rafforzarle perché ci sono tutti i presupposti per poterlo fare integrare i servizi in un mondo digitale in un percorso che ci permette di interagire in maniera importante senza poi muoverci potrebbe essere una bella risposta all'esigenza del cittadino e all'economia delle nostre casse dall'altra abbiamo avuto un incontro qualche giorno fa è stato proposto dal senatore Ucchielli a fronte di un confronto importante che necessitavamo con la protezione civile con tutto quello che il percorso che riguarda la protezione civile che abbiamo in unione perché la protezione civile che abbiamo in questa unione appunto diceva l'integrazione di servizi è legata a sei comuni che sono quelli di Gabiccia e Gradara Tavuglia Monbaroccio Pesaro e che insomma tutti insieme possono lavorare in forte sinergia per creare e dare delle risposte a fronte delle enormi criticità che ci troviamo di fronte ogni giorno sempre in maniera più importante per essere pronti quindi assolutamente sì sentiamo chi c'è in linea buonasera buonasera prego il sindaco è qua che l'ascolta sono Michela Marsili prego buonasera sono Michela Marsili abito a Monbaroccio e quindi volevo innanzitutto congratularmi e fare veramente i complimenti in diretta al nostro sindaco che è un ragazzo un giovane uomo un sindaco veramente preparato competente soprattutto è un sindaco che ci mette il cuore in quello che fa e di fatto da quando è lui sindaco di Monbaroccio insomma ci sono mosse tante cose soprattutto Monbaroccio comincia a essere conosciuto un po' in tutta Italia grazie anche a lui anche se è un piccolo comune per cui magari i contributi arrivano dopo invece con Petrucci arrivano velocemente magari meglio che in tanti altri comuni quindi mi auspito da un lato che tanti sindaci prendono esempio dal nostro e poi volevo sapere dato che sapere che ci dicesse quali sono ho visto che non è stato parlato di questa figura importante di infermiere quali sono adesso i nuovi cantieri quali sono quelli già programmati che potranno essere realizzati questo mi interessa saperlo grazie grazie a lei insomma iniziamo a fare questa carrellata se d'accordo partiamo dalla ristrutturazione e restauro delle mura storiche ottimo abbiamo un bel intervento per quanto riguarda il recupero delle mura storiche ecco questa è una foto il terzo stralcio perché i primi due stralci li abbiamo già realizzati per complessivi tre stralci di 660 mila euro di questo devo fortemente ringraziare l'assessore Baldelli per le infrastrutture e anche il ministero per il primo stralcio 220 mila euro per il primo stralcio 400 mila euro per le altre due e tre questo è lo stralcio che riguarda il secondo il primo e il secondo torrione arrivando dalla strada provinciale quindi proprio prima di porta marina porta maggiore perdonate sono interventi propedeutici gli stralci sono sette sono tutti interventi propedeutici anche non solo alla valorizzazione e alla riqualificazione delle mura quindi la loro bellezza nel loro recupero ma anche dal punto di vista di dissesto idrogeologico cioè tutti questi lavori che siamo andati a fare che stiamo facendo ci permettono di vedere lo stato di solidità di queste bellissime mura del 400 ma anche di verificarne internamente lo stato di solidità questo è importante perché ogni euro investito in termini di prevenzione vuol dire spenderne un terzo rispetto a quelli che sono gli interventi non in termini di prevenzione cioè quelli che poi gravano nel momento in cui la prevenzione veniva a mancare ho parlato di un effetto moltiplicatore di tre ma a volte anche di quattro quando si parla di dissesto idrogeologico e quindi forse da questo punto di vista mi sento di dire che qualche intervento in più e qualche risorsa in più dobbiamo cercare di destinarla non solo come enti locali ai nostri comuni che cerchiamo di metterci quelle poche risorse che abbiamo ma anche in termini più ampi o magari partendo dal ministerio di eroi via Giu a scendere e quello è il terzo stralcio quindi un altro bel intervento su altri interventi che stanno andando avanti naturalmente c'è il marciapiede ciclovia che collega Villa Grande e Monbaroccio sono altri eccolo qua bellissima questa foto perché è fresca per i mercatini sarà pronto quindi avrete tutta la fase di illuminazione di un percorso che ha una tratta Villa Grande e Monbaroccio per circa un chilometro sono anche qui erano tre stralci due li abbiamo realizzati con questa amministrazione comunale questo è il secondo stralcio il primo l'abbiamo presentato nella primavera scorsa questo sarà terminato nei prossimi 15-20 giorni sarà oggetto anche questo di illuminazione pubblica e che complessivamente fra i due stralci sono circa 600 mila euro sento più nel cuore perché l'ho vissuto fin dall'infanzia che è il nuovo polo di infanzia la nuova scuola di infanzia di Villa Grande sono un milione quasi due milioni di euro di intervento con una piazza soprastante un progetto che è arrivato prima a livello regionale e che mi sono permesso di portare a questo cantiere perché questa settimana finalmente si esce quindi si tratta di gettate perdonatemi il termine un po' un po' così da cantiere come a volte mi capita di fare ma proprio perché mi sento vicino a chi ci lavora perché con la gettata che verrà fatta questa settimana ci permetterà di cominciare a uscire e mettere sui pilastri per vedere il primo solaio e che quindi sarà mi auguro per Natale visibile in termini strutturali questo è l'altro scusa invece il termine complessivo dei lavori allora questa la scuola di infanzia siamo un milione novecento mila euro circa quindi quella che guardavamo adesso mentre questa è l'altra casa popolare che per un milione 850 mila euro circa complessivamente comprensivo dell'ospedale di comunità siamo intorno ai 17 18 milioni di euro di cantieri in essere su Monbaroccio alcuni terminati come la scuola alcuni altri in cantiere come la palestra comunale che qui non c'è che sono un altro milione di euro di interventi questa edilizia popolare che permette anche di dare una risposta a quello che sono i fini sociali perché Monbaroccio quando sono arrivato io la mia amministrazione prima del 2019 e oggi quella del 2024 era sprovvista di alloggi di edilizia popolare avevamo richiesto un fabbisogno crescente in particolare nel periodo del covid ma anche dopo che dovevamo dare una risposta al nostro comune dovevamo dare una risposta ai nostri cittadini e che oggi prevede sei alloggi in fase finale quindi per Pasqua 2025 sarei contento di consegnarli ma penso che si potrà fare altri quattro alloggi del Beato Sante che tramite ERAP stanno andando avanti e altri due alloggi in centro storico che saranno fruibili quanto prima ma quali sono le tempistiche? allora per quanto riguarda l'edilizia popolare di Montegiano Pasqua 2025 la consegna ah però ok siamo siamo lì siamo io le ho chiesto Natale Natale 2024 ma le ho chiesto un po' troppo ai ragazzi allora Pasqua 2025 potrebbe essere un buon compromesso edilizia popolare Montegiano stanno lavorando sul cantiere abbiamo una graduatoria di 16-18 richieste che non riusciremo a secondare tutte ma a fronte di questi interventi l'80% di questa graduatoria sarà secondata e sono credetimi persone che hanno bisogno di un tetto sulla testa e hanno bisogno di trovare un inverno caldo piuttosto che dover girovagare a destra-sinistra anche a fronte delle grosse difficoltà economiche in cui vertono altri cantieri mi sento di così farlo presente perché il bando l'abbiamo vinto giovedì scorso sono altri 200.000 euro che sono stati stanziati nell'ottica del dissesto idrogeologico in termini di interventi anche di prevenzione e di miglioramento della viabilità sono interventi per 200.000 euro complessivi 197.000 per l'esattezza che abbiamo spalmato su quattro situazioni in particolar modo strada panoramica Beato Sante le abbiamo stanziati per via Mondrigo Madonnina del Tufo abbiamo lavorato sull'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accessibilità al teatro comunale e ultima ma non ultima via dei Pozzi che è stata massacrata da quella che era l'emergenza maggio 2024 interventi che ci permettono di mitigare le criticità che abbiamo subito a fronte di delle varie criticità appunto che avevo menzionato sia maggio ma anche settembre 2023 e che ci permettono di dare una dignità anche a coloro che si trovano nelle aree più periferiche del nostro comune perché hanno tutti pare dignità a prescindere che ci siano tre abitanti piuttosto che i 500 in un'area più concentrata Invece per quanto riguarda il collettamento fognario ci spostiamo al Cairo Sì ci spostiamo al Cairo anche questa è una risposta importante che riusciamo a dare ai nostri cittadini io vorrei e lo dico chiaramente un ringraziamento anche dal sindaco di Pesaro perché grazie al comune di Monbaroccio abbiamo portato a casa due milioni di euro di interventi che riguardano il collettamento da Villabetti a Santa Maria dell'Arzilla per quello che è il depuratore in essere e che naturalmente vanno a includere anche la zona industriale di Via Cairo l'intervento complessivo è di 3 milioni di euro 3 milioni e mezzo di interventi con questo ottenimento di risorse riusciamo a fare i primi due stralci un milione che arriva fino alla zona industriale l'altro milione che colletta anche Villabetti quindi devono iniziare giusto sindaco sì perché hanno il progetto anzi ringrazio anche la regione Marche grazie a dottoressa Zunghetti che me l'ha messo in mente perché hanno sostenuto il progetto economicamente un progetto economico di 70 mila euro che era un progetto preliminare che ci ha permesso poi di ottenere questi due milioni per l'intervento ed è un percorso su cui abbiamo lavorato cinque anni perché nel 2019 quando mi sei detti con Marche Multiservizi sposammo queste idee in termini proprio così di bozza e che grazie al Comune di Fano la Giunta Seri e anche la Giunta Ser Filippi poi in particolar modo grazie a Cora Fattori che si è prodigata a portare avanti anche il lavoro fatto dalla Brunori prima quindi c'è stata una concomitanza e una consecuzio di parti che abbiamo condiviso abbiamo fatto sì che quel collettamento oggi possa prendere forma ma gli dico signor dottoressa Zunghetti questo che è importante capire questo collettamento anche da un punto di vista di turismo fanese perché perché quelle criticità che noi abbiamo a Monte che producono anche degli effetti così igienico-sanitari non prettamente conformi per quel torrente si ripercuotano a valle e a valle abbiamo Fano abbiamo un Fano che ha una stagione turistica importante che agosto si vede a volte costretta a chiudere quell'area di balnazione perché il danno lo provochiamo a Monte e ho questa responsabilità anche se non è mia diretta ma è della collettività che rappresento direttamente indirettamente non moralmente non volevo più portare avanti quindi ancora più incisivi ancora più convinti lavorando insieme si possono portare a casa risultati importanti come per la ciclovia dell'Arzilla esatto su questo è un altro bel progetto che abbiamo condiviso con Pesaro e con Fano arrivano i primi soldi del ministero che dobbiamo andare a cercare perché c'è un bando in essere quindi ringrazio la giunta Ser Filippi che ha condiviso questo percorso insieme a me per presentare un bando congiunto a frutto di un progetto congiunto la valorizzazione di questa area è legata a più fattori sia dal punto di vista culturale che vede nelle termine di Carignano il punto di riferimento che vede nelle ciclovie negli sterrati senza abbattimento di piante quindi nel rispetto della natura tutta un percorso che va a valorizzare le nostre bellezze non solo naturali non solo naturalistiche ma anche tutti quelli che sono gli aspetti dei nostri produttori che sono sul territorio che possono vedersi attraversati da questi turisti che vanno poi a conoscere non solo il prodotto sullo scaffale ma anche laddove viene prodotto il recupero delle chiese il recupero di alcuni santuari naturalmente e sempre con forte attenzione due aspetti fondamentali quello del dissesto idrogeologico che con queste aree con questi interventi possono mitigare sia il fiume Arzilla sia altre criticità vorrei vedere infatti anche un'altra foto inerente a quello che lei sta dicendo e che riguarda appunto una strada vediamo se riusciamo a recuperarla dalla regia ok e nel frattempo posso dire che ecco questa è una situazione del fiume Arzilla che abbiamo subito ultimamente che vede una situazione costante che non posso più sopportare perché e quello che è l'intervento della ciclovia andrebbe a rafforzare questi argini in modo tale che il fiume non invada più quelle strade quelle strade che sono percorse da tantissime persone ogni giorno quelle strade che servono nelle nostre zone industriali imprenditoriali e che non possono ledere nell'attività produttiva men che meno la vita delle persone di chi vi transita e quindi un'operazione congiunta con cui stiamo con la quale che stiamo portando avanti con i comuni di Mitrofi Fano è già predisposta con Monbarossio per portare avanti alcune questioni che vedono appunto il miglioramento e una proposta turistico culturale forse unica perché questa ciclovia a fronte di tutto un percorso regionale che vede a pettine le diramazioni di una ciclovia adriatica permette di congiungere la ciclovia del foglia con quella del metauro e quindi creare la prima sinergia fra le due vallate quindi un po' unica nel suo genere ma sicuramente interessante anche dal punto di vista culturale turistico e di dissesto idrogeologico aggiungo e finisco che fra i vari interventi è prevista anche una vasca di laminazione in zona Carignano in modo tale che la recettività a valle sempre del fiume Arzilla sia mitigata anche a fronte delle ultime alluvioni in questo caso le tempistiche? qui bisogna andare a cercare i fondi bisogna essere bravi bravissima bisogna fare squadra i primi bandi stanno uscendo adesso c'è un bando del ministero che potrebbe prevedere fino a 350 400 mila euro di interventi che potrebbe essere un primo step a fronte dei quasi 5 milioni complessivamente da definire sulle tre realtà pesarese fanese e monbaroccese sindaco chiudiamo con gli eventi ma prima di passare a quelli natalizi vorrei fare un accenno alla settimana che di Pesaro 2024 di cui monbaroccio è stata protagonista com'è andata? è andata molto bene devo ringraziare tutte le associazioni che si sono prodigate perché tutti hanno dato un grandissimo contributo queste sono le sfere della terra e di Giove sono sbaglio che ho preso in prestito a Cogliel Metauro ringrazio la fondazione di Cogliel Metauro della fondazione del Balì esatto la fondazione del Balì che è stata gentilissima e anche l'amministrazione nel sindaco Briganti e la sua giunta per essere stati molto disponibili nel concederci queste sfere perché in quel palazzo che è il Palazzo del Monte abbiamo messo a cuore la scienza il valore della scienza in un percorso culturale che si è visto protagonisti nella settimana di luglio un percorso culturale che ha visto protagonista il Beato Sante che ha visto protagonista le donne del ricamo che ha visto protagonista tutta una collettività che si è messa a disposizione per farsi ecco questo è un altro pezzo importante nel recupero della chiesa di San Marco la valorizzazione di Ciro Pavisa cioè non c'era distinzione di frazione non c'era distinzione di nulla c'era una squadra e tanti volontari che hanno voluto rendere bello e sempre più importante questo meraviglioso comune adesso si guarda al Natale avete già definito le date? siamo pronti siamo pronti c'è la Proloco che sta correndo come non mai per arrivare pronta al 23 di novembre anticipate sindaco? anticipato di una settimana questa volta 23-24 di novembre le prime date quindi anticipiamo pochettino c'è un giorno in più perché l'anno scorso l'otto capitava differentemente però devo ringraziare questi ragazzi e queste ragazze che veramente ci mettono l'anima ci mettono il tempo ci mettono la passione ci mettono un amore incredibile lasciando veramente a volte dimenticando anche i figli a scuola pur di mettere a posto quello che hanno lasciato in sospeso la sera prima prima ma anche durante quelle giornate perché vengono migliaia di visitatori ogni giorno quindi un lavoro in mane un lavoro immenso un lavoro che prevede deve prevedere tantissima sicurezza tantissimi ringrazio i ragazzi i volontari della protezione civile nonché i carabinieri e nonché i vigili urbani tutti coloro che si stanno prodigando affinché il piano di sicurezza non sgarri nemmeno una virgola perché nel momento in cui ti arrivano 20-25 mila persone in un periodo così breve concentrato in quei weekend con tanti bambini e tante carrozzine non ti puoi concedere di sbagliare nulla e su questo la serietà dei volontari la serietà della Proloco ma anche l'UMPI provinciale che si sta prodigando al meglio nonché la prefettura nonché tutte le forze dell'ordine che stanno collaborando diventano una risorsa non solo per Monbaroccio ma per far conoscere un territorio intero perché in quello che è il Natale che non ti aspetti a fronte delle tante situazioni che viviamo nella nostra provincia è opportuno fare squadra e promuovere non solo Monbaroccio ma tutti i nostri meravigliosi burchi e promuoverli insieme quindi farete da apripista probabilmente per tutti gli altri eventi che si svolgeranno anche negli altri comuni adesso vedremo le date che usciranno ovvero insomma probabilmente si partirà proprio da Monbaroccio Sindaco vorrei chiudere questa puntata con un messaggio che ci è arrivato poco fa da parte di un telespettatore che scrive quanta passione nello svolgere il mandato che i cittadini gli hanno affidato un esempio per tutti gli amministratori insomma un bel complimento grazie grazie a lei per essere stato di nuovo a Primo Cittadino un ringraziamento anche a tutti i nostri telespettatori vi do appuntamento alle 20 e 30 per il nostro telegiornale grazie anche alla nostra regia in cui abbiamo Cristiana Guerra e Riccardo Sora grazie ancora Sindaco grazie a voi per l'invito a più tardi